E Venaria ha questa saletta come punto di ascolto che attualmente è frequentata da persone che sono vittime di violenza, non parliamo soltanto di donne, in quanto il problema della violenza, ahimè, appartiene un po' a tutti, nessuno escluso, scaglie la pietra, che non è peccato per così dire. E lavora già dal 2013 per volontà della loro provincia, poi città metropolitana e ha diversi accessi. La cosa molto interessante, devo dire che il loro lavoro viene fatto sia in blocco come servizio diretto alla persona, ma viene fatta anche come formazione e sensibilizzazione nelle scuole. In quanto è dai ragazzi che bisogna partire per cercare di cambiare un sistema culturale, una mentalità, che purtroppo in questo senso è degenerativa.